In questi giorni abbiamo parlato qui sul canale più volte delle problematiche riguardanti della Sverona e del presidente Maurizio Setti che comunque direttamente o indirettamente potrebbero seriamente portare allo smantellamento della società veneta. Abbiamo già assistito alla partenza di Isakien che si è trasfitto all'Atalanta per 9 milioni di euro più uno di bonus e di Obaldè attaccante classe 2005 da primavera ma potremmo assistere ad altri addi perché comunque gli elementi pregiati della squadra veronese sono veramente tanti. Si è parlato sicuramente dell'addio di Ingonge, si parla anche dell'addio di Mboulat, c'è la cosa della Sampdoria ma il giocatore non è convinto di scendere di categoria. Si è parlato anche di un addio di Filippo Terracciano del quale andremo a parlare in questo video. Insomma sono tanti giocatori che appunto potrebbero lasciare il Veneto. Mi stavo scordando, Doig cercato al Torino, Henry nel mirino del Pisa ma nell'ultime ore si è fatta anche avanti l'ipotesi Genua che lo renderebbe come Vicereteghi. Insomma una situazione veramente delicata per la società veronese. Ma appunto in questo video voglio concentrarmi su Filippo Terracciano, giovane centrocampista classe 2003 che è saltato alla ribalta questo nome negli ultimi giorni perché comunque è stato accostato inizialmente alla Fiorentina, operazione pari a circa 5 milioni di euro. Ieri, anzi l'altro ieri, un'accelerata diciamo del Milan che ha incontrato gli agenti del calciatore, con loro sembra che l'accordo sia stato raggiunto ma c'è da convincere Verona e nella giornata di ieri sembra che sia fatta avanti anche la Juventus. Quindi in questo video voglio un pochino analizzare insieme a voi il profilo di Terracciano e vedere in quale società potrebbe rendere meglio. Quindi se nella Fiorentina, nel Milan o nella Juventus. Partiamo dalla Fiorentina. Sicuramente il discorso che vi sia soltanto caiode come terzino destro, con un dodò che sarà ancora fuori per un bel po' di tempo e molto spesso questa cosa ha portato anche ad adattare Parisi ad esso, una cosa totalmente senza senso diciamo così, però giustamente la società viola fa di incestità virtù, quindi italiano fa di incestità virtù. Quindi per la Fiorentina un Terracciano potrebbe essere ottimale. L'unica cosa da vedere sarebbe il discorso che lui a Verona è abituato a fare l'esterno a tutta fascia. Fare il terzino, seppur d'attacco, nella difesa della Fiorentina richiederebbe comunque uno sviluppo di altre skills o quantomeno di un'evoluzione di alcune skills di Terracciano. A favore delle classi 2.3 della Sverona c'è il fatto che è fisicamente molto pronto, 186 cm, ha buone dote aerobiche e comunque ha un bilanciamento naturale delle caratteristiche offensive e difensive. Il problema dove sta è che fondamentalmente lui è ancora in una fase che sa fare tutto ma niente al 100%, nel senso è un buon esserno a tutta fascia, ha fatto anche a volte grazie alla sua fisicità il braccio di destra in difesa 3, ha fatto anche la mezzala in un centrocampo 3, però fondamentalmente non è incidente in nessuna di queste posizioni. Quindi ovviamente il passaggio eventuale o alla Fiorentina o al Milan o alla Juventus comporterebbe un'evoluzione diversa probabilmente del calciatore in relazione anche a eventuali tecnici che poi potrebbero avvicendarsi sulla panchia della Fiorentina, del Milan e della Juventus. Alla Fiorentina quindi richiederebbe questo tipo di lavoro a prescindere che Terracciano sarebbe un investimento ottimo per tutti i club di Serie A. Per la Fiorentina non so, nel senso che tu hai già un giovane quale Cagliode da valorizzare. Hai un Dodò che è vero, adesso è assente, ma comunque ce l'hai. Una volta che mi rientra Dodò tu ti troveresti tre esterni destri come Terracciano, appunto Cagliode e Dodò per un posto. È vero, Terracciano ha fatto anche l'esterno a sinistra e poi lo andremo a vedere in ambito Juventus e Milan. Però lui ragazzi, lui è un esterno destro, fondamentalmente. Ha spesso giocato lì ed è solo naturale. Quindi, ripeto, per la Serie A in generale sarebbe un investimento ottimo per tutti i club, per la Fiorentina, forse ci pensi due volte, ma più che altro, ripeto, perché hai un Cagliode da valorizzare. A meno che poi non decidi di spostare in avanti Cagliode e magari utilizzare Terracciano dietro. In ambito Milan sicuramente sarebbe un upgrade. semplicemente perché Florenzi va per 33 anni, Calabria a me non ha mai convinto al 100% e mettere un Terracciano in quella posizione potrebbe essere una cosa ottimale. In primis perché va a svecchiare la fascia, seconda cosa perché metti maggiore fisicità, perché comunque sia Calabria che i Florenzi non sono bronzi di riace. Inoltre, contando che in questa stagione Florenzi è stato per emergenza adattato anche a sinistra, un Terracciano, ecco, per lui verrebbe un pochino più semplice adattarsi a quella posizione, ma perché in passato ci ha già giocato, quindi probabilmente sarebbe discretamente funzionale a questa opzione. Certo, lui come esterno sinistro ha giocato a tutta fascia, che comunque la tipologia di gioco di un esterno a tutta fascia è diverso che fare un terzino. Fare un terzino per Terracciano già secondo me andrebbe ben schematizzato, ben indirizzato e ben formato nel ruolo di quarto difensivo. Se per lo metti anche fuori fascia insomma è un po' delicato come situazione. Sicuramente però è un giocatore, ripeto, che potrebbe essere molto funzionale e che potrebbe crescere in futuro. Sono d'accordo anche con l'agente d'amico che ha detto con lui prendi tre e paghi quattro una roba del genere perché effettivamente prendendo un giocatore così tu vai a prendere un giocatore che è veramente duttile è un tuttocampista. Magari non è il giocatore che ti va a prendere nove in una partita ma magari non è anche quello che la partita dopo ti prende quattro. E' un giocatore che si aggira tra il sei, il sei e mezzo, il sette ad ora. Fa il suo. Non lo vedo con la personalità da game changer assoluto. Però lui con le sue caratteristiche secondo me potrà fare veramente tanto bene. Capitolo Juventus. La Juventus è un grosso problema a destra perché fondamentalmente sulle fasce ha un Kostic a sinistra che è in fase calante quantomeno in questa stagione. Un Cambiaso che ti fa la spola a destra e a sinistra. un Desciglio che è out e un UEA. E sappiamo bene che Cambiaso è uno che può agire su entrambe le fasce. Il discorso di Cambiaso essendo un ambidestro può indifferentemente coprire il doppio ruolo. Tenendo conto che la Juventus ha anche a Lin Junior impiegato molto spesso come ha la tutta fascia però lascia la Juventus verrà trasferito a tempo a titolo definitivo o magari finirà il Monza a titolo definitivo con recompra o magari in presto con diritto d'obbligo di riscatto è difficile da dire ma fatto sta che per la Juventus a differenza anche per il Milan e per la Fiorentina sarebbe assolutamente un acquisto da fare perché c'è già un'affinità di modulo ripeto stando a questa Juventus io parlo adesso se può un discorso che si dice ok uno fa l'investimento su Terracciano a prescindere e poi nella prossima stagione da luglio 2024 si comincia a vedere con i cambi di mister va benissimo però avere un jolly come lui per il 3-5-2 di Allegri separato anche di un 3-4-2-1 insomma un modulo che Terracciano conosce già ecco che fare le coppie Wea Terracciano a destra e Kostic e Cambiaso a sinistra secondo me sarebbe veramente tanta roba anche perché ripeto De Sciglio rientrerà tra mesi dopo un infortunio molto serio e comunque il giocatore farà 32 anni quindi non è più di primo pelo bisognerà vedere insomma come risponderà anche il fisico del calciatore quindi onestamente tra Juventus Fiorentina e Milan secondo me Terracciano sarebbe un giocatore game changer per la Juventus per il Milan e per la Fiorentina sarebbe un giocatore veramente interessante molto futuribile adattabile duttile ma da formare nella Juventus potrebbe fare l'esterno potrebbe fare il braccetto potrebbe fare la mezzala esterno ovviamente a destra e a sinistra insomma sarebbe maggiormente incastonato in una pietra che ha già i tasselli per i zaffiri fosse la Juventus agirei nel senso sfruttere magari il momento con decisione con danno che adesso abbiamo detto sportivo molto preparato come Giuntoli e affonderei il colpo per cercare di acquistare appunto Filippo Terracciano nella Sverona magari sfruttando appunto questo momento di grande difficoltà da parte dei veronesi fatemi sapere ovviamente qui sotto cosa ne pensate vi mando un abbraccione e ciao al prossimo video ciao ragazzi